ciao 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 da svideo questo video è dedicato a thunder luca praticamente mi è passato di mente il giorno del suo compleanno chiedo scusa quindi ho detto beh ma allora anche se abbiamo saltato il giorno del suo compleanno comunque ti dedico ugualmente un video oggi thunder luca quindi questi questo video è dedicato a te e comunque tantissimi auguri anche se mega mega ritardo tantissimi auguroni di buon compleanno ancora facciamo un evento che venti ci sono scelta di manghiello cos'è squadre block dash dai faccio dai faccio squadre block dash facciamo questo è tipo block dash team sarà comunque thunder luca giocatore forte su stumble guys per un certo periodo facevo dei tornei che ne ha vinti spesso dopo poi si è messo che non lo giocava quasi più ma adesso è ritornato a giocarlo e niente quindi thunder luca se ogni tanto quando faccio le mie live su stumble guys passa mi raccomando che ci divertiamo tutti insieme e io vi ricordo che le live di stumble guys di solito le facciamo alle 7 20 della sera ma non tutti i giorni ecco perché delle volte ci sono altri giochi comunque ogni tanto alle sr 720 c'è stumble guys altre volte c'è fortnite di solito sono quelli di giochi che faccio a quell'orario lì riesco a passare avanti sì ok e siamo ecco ci siamo qualificati bene ottimo la prima manche il primo round ci siamo qualificati bene 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 abbiamo più che team block dash squadre cioè non siamo solo due ma è una squadra proprio da quattro ok ok oh no oh no ok ok credevo di finire sul laser invece mi è andata bene ok oh no eh niente qua adesso mi devono riattivare ok grazie al mio compagno di squadra no no ah no no non ci sono io ho visto male hanno riattivato un altro compagno di squadra non io ok c'è dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi riattivatemi riattivatemi anche se sono scarso riattivatemi ai 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 c'è qualcuno si della mia squadra c'è ancora qualcuno uno c'è solo blaze pros bravo che sa fare i recovery mentre io non lo so fare bravissimo sono vivo grazie che mi riattivano grazie tantissimo non mi possono sentire ma vabbè ringrazio lo stesso ahiaiaiaia no ma quando imparerò a fare i recovery eh niente per colpa mia ho fatto perdere tutta la squadra eh sì no niente non ha senso cioè niente dai fermiamo qua è andata male allora allora facciamo una cosa facciamo anche boh classificata dai anche se sono scarsa comunque thunderluca thunderluca questo video ti ho dedicato thunderluca thunderluca ritorna a giocare più spesso su stumbleguys ti voglio vedere ancora nelle mie live allora vediamo un po' sì ma anche qua blood dash ancora c'è il solito problema problema dei recovery ai 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 no eh no no però no non devo no 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 eh sì se muoio così è una tristezza ok aiuto sì no 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 niente sono il solito disastro sono il solito disastro niente chiudiamo qua chiudiamo qua questo queste giocate pietose e niente e niente è andata così già che ci siamo facciamo questo questo ok e facciamo un giro di ruota va saldi livello che posing rara bello ho ricevuto un posing ok e la cosa guardiamo la ruota oh ma ce l'ho già guardiamo quella lì che ci hanno regalato le motte posing ma dove me l'avranno messo e come faccio a capire quale posing dov'ha robot mettiamo tutti chiudere robot samba maniop macarena e dov'è quella posi in lì? non ho capito dov'è ma comunque metto rip dai mi metto dove era rip? non trovo niente ah rip è questo ok va bene va bene niente un salutone tanderluca ancora tanti auguri in ritardo ok e niente questo video è dedicato per te spero che ti abbia fatto piacere e un salutone a tutti quelli che hanno guardato questo video e seguite tutte le mie live non solo di Istanbul Guys ma tutte quelle che fa tutte tutte seguite tutto seguite tutto quello che faccio ciao ciao ragazzi ciao 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 tutti ciao ragazzi ciao ragazze ciao ciao tutti ciao ciao ciao